Il discorso di frattura e benzina sul fuoco, l'intervento in Consiglio regionale ha scatenato una serie di reazioni, istituzione calpestata, romano replica, torno in politica, Manuela Petescia annuncia querele. Papa al governatore avvezzo alla calunnia, il pubblico ministero chiamato in causa dal presidente reagisce e denuncia, non è la prima volta, riferito il PM, che frattura, inventa e manipola la realtà. Ma all'ore di Brasiello durante il Consiglio il sindaco di Isernia si accascia in aula nel corso della seduta sulle nomine degli assessori portato in ospedale per controlli. La situazione è migliorata. Accidente sull'autostrada per Roma, gravissimo un poliziotto, un agente di Campobasso e dirigente dell'ufficio immigrazione coinvolti in un tamponamento alle porte della capitale. Il 42enne è ricoverato al Gemelli in elicottero. Termoli e Isernia svolta vicina a dieci giorni dalla scadenza delle iscrizioni, ultime trattative per salvare i due club. Al Campobasso piacciono gli ex della San Benedettese. Buon pomeriggio da Telemolise, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Come era prevedibile una lunga coda polemica, veleni e reazioni al discorso del Presidente della Giunta regionale Paolo Frattura, pronunciato in Consiglio regionale durante i lavori della Assemblea. Un discorso che è sembrato più un attacco su tutti i fronti, in mezzo politici, giornalisti e magistrati, piuttosto che un contributo a rasserenare gli animi già surriscaldati. Tra gli altri oggi abbiamo registrato la reazione di Massimo Romano che ha annunciato il ritorno in politica, la ricostruzione del discorso del Governatore e le parole di Massimo Romano nel servizio di Giovanni Minicozzi. Non serviva la palla di vetro di Sapientino, ma bastava guardare in faccia Pinocchio a parlare e Massimo Romano. Gli intrecci tra affari e politica li aveva riportati su un grafico eloquente fin dal mese di gennaio del 2013. Oggi Massimo Romano l'ha riproposto per replicare alle dichiarazioni di Paolo Frattura, rese nell'aula del Consiglio regionale, dove il Governatore ha difeso l'operato della sorella, ex capo di gabinetto ed ex vicequestore Giuliana Frattura e l'ex sequestore Giancarlo Pozzo sulla vicenda Biocom ed ha attaccato a testa bassa i suoi avversari politici, Michele Iori e Ulisse Di Giacomo, il direttore Emanuele Petesce e i giornalisti di Terebolise, il PM Fabio Papa e l'avvocato del Codacons. Lo avevamo detto in campagna elettorale sin dal 2013 che al sistema Iorio si sarebbe sostituito un sistema, se del caso addirittura peggiore, il sistema di frattura. Oggi a distanza di due anni ci sono delle prove evidenti che effettivamente oggi c'è un nuovo sistema, peggiore del vecchio se è possibile, che è un sistema Pinocchio che fa capo a un Presidente della Regione che continua a mentire e a dire bugie ai cittadini molisani, a partire dalla sottoscrizione di documenti come il contratto con i Venafrani che poi ha ammesso dopo due anni di non aver mai neppure eletto, oppure alla promessa di revocare dei provvedimenti sulla sanità o a favore di alcuni operatori sanitari privati che poi in realtà a distanza di sette mesi non sono mai stati revocati, per non parlare delle figuracce in mondo visione sugli stipendi dei consiglieri regionali. Quello che ne resta è un governo regionale che non riesce a dare nessuna risposta ai problemi dei cittadini molisani e nonostante tutte le promesse della campagna elettorale ai toni bassi, ai punti programmatici, in realtà mostra oggi il suo vero volto che è livoroso, violento e non mi pare che abbia molto a che fare con la politica. Il Presidente Frattura oltre a lei ha chiamato in causa nell'assise consigliare altre persone strane al Consiglio. Oltre a ciò che ha detto, oltre alla rivelazione da come ho sentito di addirittura passaggi di intercettazioni, il modo con il quale l'ha detto a mio avviso denota una instabilità che è pericolosa per gli equilibri della regione, perché credo che chi ha responsabilità istituzionali debba avere un contegno non violento come quello che c'è stato. Ci sono le sedi opportune per far valere le proprie ragioni e quelle sedi devono essere utilizzate senza però violare o tirare in causa anche persone che non possono difendersi e soprattutto senza utilizzare i ruoli pubblici per questioni che lo riguardano privatamente. Soprattutto se ad oggi, salvo contrarie smentite che tuttavia non sono arrivate, lo stesso Governatore è ancora indagato per fatti gravissimi che riguardano la gestione di soldi pubblici per le sue società delle quali era titolare prima che diventasse Presidente e i cui soci sono stati anche nell'attuale Governo regionale destinatari di provvedimenti da parte della regione governata oggi dallo stesso Frattura. Quindi io ci andrei piano. A differenza di quando riportato in aula da Frattura, Romano ha esibito il documento di archiviazione che lo riguarda relativo all'inchiesta sui gruppi consigliari. Ha escluso ogni tipo di accordo con Michele Iorio ed ha preannunciato querela nei confronti di Filippo Monaco che invece in aula aveva ipotizzato inciuci con l'ex governatore Monaco è stato costretto a lasciare costruire democrazia perché non ha mantenuto l'impegno elettorale di dimezzarsi le indennità, ha detto. Infine Massimo Romano ha annunciato il suo ritorno in politica. Lei oggi ha sciolto il nodo, un ritorno di Massimo Romano in politica breve. E di questo, diciamo, Frattura può starne certo che ci rivedremo molto presto. E sulla scorta delle dichiarazioni di Romano, il commento di Pasquale Di Bello, la sede del Consiglio regionale non era proprio forse la più appropriata per quel tenore di discorso, non tanto per il contenuto quanto per i toni usati. Mai si era vista una cosa del genere in passato. Allora sentiamo il servizio. Se fossimo al cinema, la regione molise sarebbe un film dell'orrore. Una prova sanguinolenta l'abbiamo avuta in occasione dell'ultimo dibattito in Consiglio regionale. Quello dedicato alla vicenda Scarabeo e trasformato dal presidente della regione, Paolo Di Laura Frattura, in un profondo rosso. In un mattatoio per una personalissima resa dei conti nei confronti di avversari politici e per attacchi privati e alla sfera affettiva di giornalisti colpevoli esclusivamente di aver raccontato le mille storie maleodoranti di cui il Molise è pieno e di cui questo governo regionale porta grandi responsabilità. C'è chi ha parlato di isteria, chi di ingiurie gratuite, chi ancora di nervosismo, ma la parola giusta per definire un intervento che sta alla compostezza e alla decenza istituzionale come un paracarro sta alla Torre Eiffel e una sola, indecoroso. Più Frattura parlava, più comprometteva il decoro di un'istituzione e di un'aula a cui la Costituzione italiana ha assegnato il ruolo di legislatore e che la rissa da cantina scatenata ieri ha trasformato in un bazar da terzo mondo. Più Frattura parlava e più per una invisibile legge del contrapasso sfilavano alle sue spalle i padri dell'autonomia e di questa regione. Uomini che in quel momento marcavano la differenza tra ieri e oggi. Girolamo Lapenna, Florindo Daimmo, Giacomo Sedati, Alfredo Marraffini, Edilio Petrocelli, Nicola Crapsi, Ugo Gentile, Carlo Vitale, Giustino Duva, solo per ricordarne alcuni. Giganti di un tempo che ieri si saranno rivoltati nella tomba a sentire un intervento basso e pieno di colpi bassi, privo di compostezza, contegno, decenza, dignità e in una parola decoro, tutte virtù che il popolo ha diritto di chiedere e ottenere da un presidente di regione. La pagina scritta da Frattura e dal centro-sinistra è l'espressione del decadimento al quale siamo giunti. Una pagina che non ha nulla di sinistra ma che ha tutto di sinistro ed è la rappresentazione di una classe governativa inetta e boriosa e che, politicamente parlando, non va restituita alla società civile ma agli studi di Cinecittà perché quello che abbiamo visto nell'ultimo Consiglio regionale non è stato un dibattito ma un film dell'orrore che ha inorridito i molisani e di cui più di uno, a partire da Frattura, dovrebbe pentirsi e vergognarsi. E sulle dichiarazioni accompagnate non solo dalla lettura illegale di intercettazioni presenti in altri procedimenti giudiziari ma perfino manipolate, avendo proceduto Frattura stesso all'esposizione di conversazioni mai avvenute nei termini riportati, il direttore di Telemolise ha mandato all'avvocato Arturo Messere di sporgere denuncia a querela per i reati di diffamazione, calunnia, rivelazione di segreto istruttorio e falso ideologico in relazione ad atti giudiziari. In particolare le indagini, peraltro in fase preliminare aperte dalla Procura di Bari, non sono altro che la conseguenza di una denuncia contro il direttore di Telemolise e contro il pubblico ministero Papa presentata e firmata dallo stesso governatore. Dunque ieri in Consiglio regionale Frattura ha manipolato i fatti, spacciando per verità processuale, una sua denuncia personale e peraltro a sua volta già querelata per calunnia. E a questo proposito lo stesso sostituto procuratore Fabio Papa ha deciso di denunciare il Presidente. Sentiamo Marta Martini. Sono dichiarazioni dure quelle che il magistrato Fabio Papa ha rilasciato a Lanza dopo aver appreso quanto accaduto in Consiglio regionale dove il governatore Frattura, chiamato a rispondere sulle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l'ente da lui preseduto, si è esibito invece un geacchius al vetriolo contro persone che con quelle vicende non avevano nulla da spartire. Persone oltretutto estranea al Consiglio regionale. Frattura insomma invece di riferire sulle inchieste a carico di un assessore della sua giunta ha riferito sulle inchieste altrui con un riferimento alla Biocom, mettendo in discussione il ruolo che Fabio Papa avrebbe avuto nell'apertura dell'inchiesta che tuttora lo vede indagato. Sono costretto a rompere il silenzio osservato fin qui, ha detto Fabio Papa, perché anche alle calunnie e ai soprusi istituzionali deve esserci un limite. In merito alle incaute dichiarazioni rese in una pubblica assise consigliare dal governatore Frattura, sporgerò ampia denuncia a querela e per numerosi reati procedibili perfino d'ufficio, reati commessi nell'esposizione decisamente avventata di informazioni non solo non disponibili, non utilizzabili, né da lui né dal contesto in cui sono stati rese, ma ciò che è più grave, assolutamente non rispondenti al vero e arbitrariamente manipolate, distorte a proprio uso e consumo. Peraltro questa denuncia a querela, ha proseguito il magistrato Fabio Papa, andrà ad aggiungersi alle altre già pendenti in altre sedi, trattandosi di una ennesima manifestazione di inaudita protervia da parte di un personaggio politico, il governatore indagato che si ritiene evidentemente legibus solutus, ovvero intoccabile in virtù del proprio ruolo. Frattura e avvezzo a ricorrere alla calunnia, al falso, alla difamazione, pur di sottrarsi alle ordinarie attività di accertamento giudiziario. Ed è un reato tanto più grave, ha dichiarato sempre Fabio Papa, in quanto rivolto ancora una volta al magistrato che indagava legittimamente su di lui. Quanto al merito delle intercettazioni richiamate da Frattura e che coinvolgerebbero il sottoscritto, ha concluso infine Fabio Papa, si tratta di veri e propri falsi, essendo le mie conversazioni avvenute nel mese di marzo del 2013, quando l'inchiesta Biocom non esisteva affatto. La cronaca ora è in condizioni gravissime. La gente di Polizia di Campobasso, che questa mattina, insieme al dirigente dell'ufficio in migrazione, è rimasto coinvolto in un tamponamento sull'autostrada A1, nel tratto fra la diramazione Roma-Sud e l'imbocco del grande raccordo anulare all'altezza di Torre Nova. Due dipendenti della Questura si stavano recando al Ministero dell'Interno per ragioni di servizio quando si è verificato l'incidente sulla corsia di sorpasso fra tre auto. Quella partita da Campobasso si è capovolta e ha preso fuoco. Le condizioni più gravi sono proprio quelle dell'agente molisano di 42 anni, per il quale si è reso necessario il trasporto in elicottero al Policlinico Gemelli. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico, code fino a due chilometri. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Torniamo alla politica, ma parliamo della politica cittadina, cominciando da Iserni e dal malore che all'improvviso ha accorto Luigi Brasiello nel corso della seduta consigliare. Si discuteva la questione legata alle nomine dei due assessori. Brasiello sta bene, ma le nomine sono state sospese. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Sta fortunatamente meglio Luigi Brasiello. Sindaco di Iserni ha colpito da un leggero malore durante i lavori del Consiglio Comunale di ieri sera. Trasportato in ospedale è stato trattenuto qualche ora al pronto soccorso per accertamenti. Poi appena le sue condizioni sono migliorate, Brasiello ha lasciato autonomamente l'ospedale. Lui stesso ha parlato di una leggera indisposizione, probabilmente causata dallo stress accumulato in questi ultimi giorni. Nulla di grave, insomma. La vita politica spesso produce queste conseguenze su chi, come Brasiello, in effetti, non è un politico di professione. Ma torniamo a quanto accaduto ieri sera. Il Consiglio Comunale di Iserni ha convocato per la rateazione della Tasi, chiesta dalle minoranze per la dichiarazione del Sindaco sulla contestatissima nomina di due assessori esterni. Ebbene, dopo l'approvazione della rateazione, che ha comportato anche la correzione di uno svarione contenuto nella delibera e fatto notare da Giacomo D'Apollonio, si è passati velocemente alla vicenda clou degli ultimi giorni, quella che ha infiammato la politica isernina, ovvero la nomina sorpresa di due assessori esterni. Ebbene, il Sindaco, scurissimo in volto, si è alzato mettendo in atto una clamorosa e inaspettata retromarcia, ovvero sospendendo le nomine con la motivazione di ulteriori chiarimenti relativi alla legge del Rio. Ascoltiamolo. La paventata illegittimità del nuovo assegno dell'aggiunta, conseguente all'integrazione intervenuta con la nomina degli assessori dello scorso 23 giugno, e relativa all'inosservanza del coma 137 dell'articolo 1 della legge 56 2014, richiede un approfondimento tecnico e lo scrivente per ragioni di buona trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e perché il mio operato è unicamente finalizzato ad ottenere il migliore funzionamento dell'istituzione pubblica nel rispetto della realtà giuridica e nel rispetto del dettato costituzionale, decreto 1 di sospendere l'efficacia del decreto sindacale in oggetto, quello che vi ho richiamato numero 10 del 236 del 215, di discorre che l'efficacia sostensiva del provvedimento è immediata. Subito dopo Brasiello si è alzato e si è allontanato, nessuno aveva capito il motivo della sua improvvisa assenza, lo si è intuito solo quando a Palazzo San Francesco sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato via il sindaco trasportandolo in carrozzella al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente la vicenda si è risolta per il meglio, con le controverse nomine finite in freezer e con Brasiello, che sta meglio dopo aver fatto temere tutti per le sue condizioni. Per tornare in consiglio e vedere gli sviluppi del braccio di ferro scatenatosi sulle nomine, bisognerà aspettare qualche giorno. Per ora, scampata la paura, si pensa solo al bilancio di previsione da approvare entro fine mese. A Campobasso invece situazione sicuramente più tranquilla, parliamo della questione legata alla cosiddetta riqualificazione dell'area di Via Vico con un incontro tra il sindaco e i giornalisti che ha posto fine alle polemiche. Ce ne parla Valeria Farina. Una volta scaduti i vincoli ambientali, l'area è stata riqualificata in base al piano urbanistico. Con questa motivazione il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, difende l'area cittadina di Via Giambattista Vico, soggetto ad un'ampia opera di edificazione. Un ampio spazio verde, diversi palazzi e un parcheggio con 25 posti auto. Tutto questo, che già in fase di completamento, entrerà presto in funzione per offrire ai cittadini di Campobasso un servizio in più. Quest'area qua, dove attualmente ci troviamo, è un'area riclassificata. Cioè, è un'area dove i vincoli urbanistici, era verde pubblico, erano scaduti e il comune doveva riclassificare, era obbligato a riclassificare. La riclassificazione a verde pubblico non poteva più essere realizzata, ma occorreva una diversa riclassificazione. È quello che abbiamo fatto su richiesta della persona interessata, su richiesta dell'impresa. Potevamo, ed è una riclassificazione immediatamente ambientale rispetto a quella che c'era. Quella immediatamente, e più vicina in termini ambientali, alla vecchia destinazione, alla vecchia classificazione, prevedeva anche dei volumi. Cioè, quindi l'impresa qui poteva fare dei volumi, volumi destinati all'area, all'attività verde, all'attività sportiva, ma poteva realizzare dei volumi. In base, dunque, a quanto affermato da Battista, non c'è stato nessun abuso edilizio, né da parte dell'impresa che lavora nella zona, né da parte della stessa amministrazione comunale. Il sindaco Battista ha poi aggiunto che l'area, seppur di competenza comunale, sarà gestita dai privati, per cui non peserà sulle casse del comune. Quest'altra area, eppure quest'altra diventa di proprietà del comune, quindi con un arricchimento della proprietà del comune, ma quell'area e quest'area verranno manutenzionate dal privato. In questa storia il comune non ci perde nulla, ci guadagna solo. Tutti non abbiamo creato nessuna condizione di favore, abbiamo soltanto agito per bonificare quest'area, per renderla migliore rispetto a un luogo che oramai è una delle porte della città. Ai serni i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, arrestando un 38enne del posto per spaccio. Il pregiudicato aveva allestito una sorta di rivendita nei pressi di una sala giochi. Sempre i carabinieri, durante i controlli, hanno denunciato per detenzione di droga e guida in stato di alterazione tre persone, sempre della zona di Isernia. E ancora di Isernia, parliamo dell'ITR, perché domani il comitato dei creditori decide sulla proposta presentata dai KF. Sentiamo. Non c'è più tempo da perdere e soprattutto non ci sono più scuse. L'IKF di Mario Galetti resterà ancora pochissimo tempo ad attendere. Se una decisione, qualunque essa sia, non verrà fuori, l'azienda milanese ritirerà la propria offerta d'acquisto dell'ITR. Domani ci sarà il passaggio chiave dell'Assemblea dei creditori. Dopodiché bisognerà bruciare le tappe per portare a casa il risultato, ovvero consegnare all'IKF di Milano le speranze di rilancio del martoriato settore tessile Isernino. L'IKF esperta di salvataggine ha effettuato uno simile, altrettanto importante, con il lanificio Bottofila, un'azienda finita in crisi, rilevata, rilanciata e tornata a produrre regolarmente. Perché tutto questo non può accadere anche in Molise? Le premesse ci sono tutte. È la parte burocratica quella che oggi stenta a tenere il passo e che rischia di far saltare il salvataggio dell'ITR. Io avevo già in precedenti occasioni detto che questa questione dell'ITR sta diventando tipo una telenovela, una drammatica telenovela e non si finisce più. Siamo arrivati proprio all'assurdo. Il 22 già si doveva essere chiusa questa partita. Domani c'è il comitato dei creditori. Se domani arriva l'ok, entro pochissime ore, noi vogliamo che chi di dovere si attrezzi per fare immediatamente il passaggio all'IKF, perché altrimenti noi come Wiltec proporremo anche agli altri colleghi di fare eclatanti iniziative. I lavoratori a questo punto non ce la fanno più. L'ho detto già in altre circostanze, è inutile ribadirlo. Sta diventando una cosa assurda. La burocrazia non può distruggere una di quelle che era l'azienda che creava PIL per l'8% della regione Molise. Certo non si tornerà mai più a quei fasti, però comunque ci saranno grossi segnali che potranno portare ovviamente a una riproposizione, anche se in scala ridotta, della EXITR. Altre problematiche di carattere regionale hanno portato sicuramente allo sfaldamento di altre iniziative tessili che stavano atterrando nell'ambito della provincia di Sernia. Purtroppo sono successe altre cose, ne succedono in continuazione. La cosa è particolarmente drammatica. Rivolgiamo un accorato appello a chi di dovere di attrezzarsi per fare in modo che entro pochissime ore si risolva questa drammatica problematica. Si è parlando in questi giorni della scoperta della discarica più grande d'Europa in provincia di Caserta. Sul fine degli anni 70 un carabiniere in servizio a Isernia lo aveva già anticipato. Lo ha incontrato Sergio Di Vincenzo. Quella scoperta nei giorni scorsi dalla forestale a Calvi Risorta in provincia di Caserta è considerata la più grande discarica abusiva d'Europa. Si parla di almeno 25 ettari di terreno per un volume di rifiuti sotterrati di 2 milioni di metri cubi. Nell'area ex pozzi, industria dismessa da 30 anni, le ruspe stanno trovando di tutto. Fanghi industriali, sostanze chimiche tossiche, solventi, vernici. Una notizia che ha fatto scalpore. Eppure la storia era già nota. Il primo a segnalare la presenza di sostanze altamente inquinanti fu Giuseppe Clemente, luogotenente dei carabinieri in congedo, per molti anni in servizio a Colli a Volturno. All'epoca, siamo nel 77, comandava la stazione dell'arma di Sparanise. C'è stato un impatto molto grave ai danni di una nutrita squadra di braccianti agricoli che verso le ore 6 del mattino in questo periodo, mentre raccoglievano le pesche, furono investite in una dumpa tossica e quindi accusarono di un malessere generale. Le sue indagini permisero di accertare che effettivamente in quella zona c'erano problemi serissimi dal punto di vista ambientale, ma alla vicenda si diede poco peso, finì a tarallucce e vino, come si suol dire. Accertare che la posse Ginori Prave, che operava in zona con 5 stabilimenti, smattiva nei rifiuti tossici in una discarica incontrollata a cavallo tra Sparanise e Calverisorta, nei pressi di un fiume, il Rio Lanzi, un ruscello che comunque era stato altamente inquinato. Non ci fu un vero e proprio processo. Io riferì le indagini all'apertura di Pignataro Maggiore e per quello che mi risulta la posse Ginori venne condannata per decreto per oggetto di cose pericolose. Diversi anni dopo il luogotenente fu trasferito a Colli, dove tra l'altro ebbe nuovamente a che fare con i rifiuti tossici. Nel 91 furono infatti abbandonati dei fusti contenenti acido cianidrico a pochi metri dal fiume Volturno. Andai sul posto insieme a un dipendente, un collaboratore, il quale accusò un malessere improvviso, tanto che fui costretto a farlo trasportare in sala di rianimazione dell'ospedale Gardarelli di Campobasso. Grazie a un'indicazione ricevuta riuscì nel giro di poco tempo, di poche ore, ad identificare i responsabili. Dai veleni sotterrati alla proprietà del Prunus spinosa, il Trigno, una pianta che cresce a Bagnoli. Ce ne parla Giuseppe Carriera. Era grande l'attesa ed è stato grande il riscontro per la relazione scientifica al congresso Artoi di Milano, in cui Stefania Meschini, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, e Giovanni Occhionero, chimico-farmaceutico, hanno illustrato alla comunità scientifica internazionale i dettagli di una ricerca sulle attività antiproliferative e antitumorali del composto formato da estratto di Prunus spinosa trigno e can, complesso attivatore nutraceutico. Continuano infatti gli studi su questa formulazione, ottenuta in due anni di ricerche e partendo dallo studio di una pianta raccolta in Molise. Per il momento in vitro la ricerca ha dato risultati sorprendenti, come ha ribadito la platea milanese la ricercatrice Meschini. Ora è impegnata con il suo team a raccogliere ulteriori dati, sempre in vitro, sulle attività a livello cellulare che sono alla base dell'azione apoptica che fa perdere alla cellula tumorale la possibilità di proliferare. Il complesso Prunus spinosa più can, utilizzato su linee cellulari umane di isotivi diversi, ha spiegato la ricercatrice, ha mostrato una massicciazione antitumorale. Giovanni Occhionero, chimico-farmaceutico, ha sottolineato la radice tutta naturale, oltre che tutta italiana, della ricerca, parlando del Molise e dell'area incontaminata del fiume Trigno, da cui proviene la pianta chiamata tradizionalmente allo stesso modo. Trigno M è anche il nome del preparato naturale, già comunicato al Ministero della Sanità e oggetto di brevetto in pari quota tra ISS e Biogroup, che in futuro sarà reso disponibile dall'azienda, che al momento è impegnata scrupolosamente nell'ottimizzazione delle fasi di produzione. Questo preparato, ha spiegato ancora Occhionero, rispetta le norme vigenti in fatto di integratori, per questo potrà essere utilizzato una volta disponibile a supporto delle terapie convenzionali. Tema questo importante per i professionisti della medicina biointegrata, che hanno affollato l'aula del VII Congresso Internazionale Artoi, dal tema Integrative Care and Nutrition in Oncology, evento nel quale è stato impegnato come moderatore della sezione su Oncologia e Nutrizione, il dottor Franco Mastrodonato, molisano, presidente della CIMEB, Società Italiana di Medicina Biointegrata. Adesso parliamo della riuscita del progetto teatrale Vaillant e San Giuliano di Puglia. In questo servizio Fabrizio Occhionero. Più di tre minuti di applausi, un abbraccio condiviso tra il pubblico e gli artisti sul palco, un messaggio forte dalla tragedia alla speranza, le nuove generazioni che nel tempo non hanno dimenticato. La diga del Vaillant e il terremoto di San Giuliano di Puglia, un filo rosso lungo oltre 50 anni che ha attraversato e continua a ferire l'Italia. Il progetto teatrale, scritto e diretto da Andrea Ortis, si è proposto l'obiettivo di rendere attuale un racconto che, seppure parte della storia del paese, intercetta moltissimi elementi di affinità con l'oggi. Una narrazione articolata su tre piani, il presente, il passato e un terzo tempo sospeso che lascia aperta una riflessione. Le scene sono state realizzate tutte in Molise su un progetto originale di Lara Carissimi. Ho cercato in questo progetto innanzitutto di riuscire ad avere un contatto diretto con la storia e con i personaggi che ne hanno fatto parte. Ho seguito in qualche modo anche la regia perché c'era la necessità di sensibilizzarsi un po' di più per conoscere meglio i fatti. Sì, quindi in un viaggio su Nel Vaiont in cui abbiamo incontrato Michaela Coletti che è una delle sopravvissute di questa tragedia. Da lì è partito questo lavoro su San Giuliano di Puglia, sull'incontro e la conoscenza. Gli interpreti sono Andrea Ortis, Aldo Gioia e Maria Teresa Spina. Eseguite dal vivo le musiche originali di Antonio Cocomazzi hanno creato un'atmosfera molto suggestiva con il polistrumentista Pedicle Odierna. Sono musiche dell'uomo e del suo vivere connotate alla nostra umanità ma anche a spazi liberi e aperti dove poter coltivare una speranza. Una ricostruzione dettagliata dai fatti del Vaiont quando la frana del Monte Toc nella diga sollevò un'onda gigantesca travolgendo cinque paesi e lasciando una scia di morte, quasi duemila vittime e distruzione. Come popolo sicuramente i primi tempi tutti quanti rispondono perché noi siamo italiani e gli italiani rispondono immediatamente. È lo Stato che latita sempre e noi dipendiamo dallo Stato, non dipendiamo tanto dal popolo e questo è quello che ci fa male che lo Stato si dimentica subito di noi. Nella scenografia spiccano due orologi, le lancette e i fermi al momento della frana nel lago artificiale alle 11.32, la scossa che ha cambiato per sempre la storia di questo territorio. Per l'associazione Overture la conferma di una grande sensibilità e di un rinnovato impegno culturale. Dopo San Giuliano il Vaiont di tutti verrà proposto in altre due ambientazioni molto suggestive, il 10 luglio ad Altiglia e il 18 luglio a Pietrabbondante. Siamo in chiusura, prima di salutarci vi facciamo vedere questo gattino trovato vicino all'hotel Roxy a Campobasso. Chiunque l'avesse smarrito se ne volesse prendere cura può mettersi in contatto con la redazione di Telemolisi oppure si può rivolgere allo stand Dolci e Balocchi in piazza Savoia. È tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento alle 15 per gli aggiornamenti. Ora le previsioni del tempo, a più tardi. Grazie per aver guardato il video.